La rastranieria a effettuare questo rinvio di sinistro, la palla supera la metà campo, si impena, arriva Cannistrà che colpisce bene, Mellace, tocco per Procopio, in fuorigioco voci ma fuorigioco passivo, recupera Doria, si prepara al cross, arriva il pallone, Procopio, Procopio e tutti insieme da Gregorio e questo è il momento, il gol di Procopio al decimo minuto fa abbracciare tutti intorno alla maglia numero 10, la maglia di Gregorio Vatrella e Marco Voci guarda negli occhi stranieri, fa un saltello, qualche passo, parte Marco Voci quasi da fermo, gol ed è Marco Voci Il controllo di Greto, tocco per Mellace, Marco Voci riceve il pallone, è in posizione giusta Marco Voci ed è la doppietta Ancora Ienco, a questo punto se ne va in bello stile Ienco, ancora per Procopio, è partito Greto sulla sinistra, Procopio però punta verso la porta, punta anche l'avversario, si allarga verso Doria Solo Doria, di punta, modello calcetto ma l'arbitro, si l'arbitro concede il gol, è al 39esimo, è il quarto gol di Doria Ancora Paparazzo, parte in velocità Doria, velocissimo sulla fascia, evita anche il ritorno di Randò, vola Doria, mette in mezzo per Procopio Salvatore Procopio e questa è un'azione da mettere nel manuale del gioco del calcio Ed eccoci ora con mister Cristofaro, un uomo di calcio che oggi ha perso 5-0 ma dicevamo in telecronica un erogio di Falco che esce comunque a testa alta perché ha giocato dal primo all'ultimo minuto credendo nella possibilità di dire qualcosa in queste partite Sì è vero, noi al primo tempo abbiamo disputato una bella parità, nei primi dieci minuti con errori nostri perché lì nell'aria loro c'erano delle pozzanghere quindi la palla rimbalzava male e loro hanno avuto 3-4 occasioni per fare il gol però noi pure al primo tempo due o tre gol li potevamo fare pure noi poi al secondo tempo quell'uscita di stranieri non prendendo la palla 1-0 ci ha tagliato le gambe anche avendo poi la possibilità di fare l'1-1 con Trino ma poi il rigore ha chiuso la partita e dopo non c'è stata più partita, la verità, loro andavano a mille Ed eccoci ora con mister Pisano, un 5-0 importante che parla da solo sia pur contro un erogio di Falco che non ha demeritato ed è uscito diciamo a testa alta Sicuramente, primo tempo infatti finito 0-0 anche se onestamente avevamo già creato diverse occasioni da gol purtroppo ci portiamo un po' a questo problema di non riuscire a sbloccare subito le gare sarebbe tutto più semplice per noi poi riuscire a gestire anche la gara passando in vantaggio subito però abbiamo questa pecca e dobbiamo cercare di migliorarla E gli obiettivi per questo campionato li dichiariamo ora o li costruiamo giorno per giorno? Gli obiettivi sono sicuramente quelli di migliorare il campionato dell'anno scorso fortunatamente abbiamo fatto un campionato al di sopra delle aspettative quindi quest'anno abbiamo dei doveri nei confronti soprattutto del pubblico di Montepone e di qualcuno che non c'è più e dobbiamo assolutamente cercare di regalare le più grandi soddisfazioni perché sono ampiamente meritate, è un ambiente che vive di calcio e noi siamo contentissimi di fare un campionato di vertice quindi vogliamo fare un campionato di vertice Mister non si parla dei singoli ma io tra le tante ho una passione calcistica segreta per Doria questa volta assegnato alla di bala di punta perché era l'unico modo in cui si poteva mettere dentro la palla Sì e siamo in due ad avere una passione per Doria come ce l'ho per tanti altri ragazzi per tutti i ragazzi che alleno Davide ha delle grandi capacità tant'è che sta giocando da tre anni con me ed è fuori quota praticamente sempre perché ha iniziato prestissimo e mi sorprende sempre con questi miglioramenti direi importanti e gli auguro di fare una grossa carriera perché la merita ma non dimenticherei oggi la prestazione di Enco che è un anno più piccolo e di Gualtieri che è un altro fuori quota abbiamo fatto esordire in casa Carpino Mattia che è un 2000 direi che questa è una squadra, è una società che ha degli obiettivi che non sono quelli di vincere i campionati ma sono quelli di riuscire a portare i ragazzi del settore giovanile in prima squadra e devo dire che sta andando molto bene